Esprimiamo come gruppo lega grande soddisfazione per l'approvazione avvenuta poco fa in seconda commissione della nostra risoluzione che vede come prima firmatario il capogruppo quaresimale e poi tutti quanti noi rispetto alle criticità di questo periodo che interessano il tratto autostrada 14. È evidente che con questa risoluzione chiediamo ancora un maggior impegno al governo regionale in particolare al presidente Marsiglio, oltre a quello già profuso in queste settimane per arrivare alla dichiarazione da parte del governo nazionale di uno stato di emergenza e quindi la nomina di un commissario ad acta dotato di poteri e risorse straordinarie. Il problema è ancora più grave in questo periodo estivo in cui comunque nonostante il Covid molti turisti cominciano a popolare le nostre località balnearie anche dell'entroterra e subiscono appunto code inaccettabili nel raggiungere l'Abruzzo con ritardi di ore. Riteniamo questa situazione assolutamente insostenibile, inaccettabile da parte del governo nazionale che dovrebbe farsi sentire con maggior forza, con maggior vigore e anche con maggior autorità da parte del concessionario per far sì che queste continue interruzioni che interessano il tratto autostradale possano essere gestite in altro modo e non arrecare quindi il disagio e le problematiche che stiamo subendo quotidianamente.